Già da ragazzina sapevo cosa fare e quindi ho scelto scuole di grafica pubblicitaria e comunicazione. Ho iniziato a fare la gavetta e adesso ormai in realtà sono abbastanza giovane, però ormai ho otto anni di esperienza, quindi è stata la scelta giusta. Ho avuto un'ottima opportunità di lavoro e quindi mi sono trasferita a 23 anni e dopo quattro in realtà sono ritornata qui a Torino, che è la mia città. Ovviamente il fatto di lavorare da giovane mi ha permesso di viaggiare. Il viaggio è una parte fondamentale nella mia vita e mi permette di sperimentare, mi permette di guardare cose nuove, stili nuovi e in realtà questa cosa poi si rispecchia anche nel mondo del lavoro. Fin da piccola in realtà una mia passione è andare in giro per le mostre. Torino offre tantissime possibilità di mostre, di incontri e per fortuna perché è una realtà che attualmente si sta muovendo tanto. Per fare questo lavoro è importantissimo avere stimoli esterni, circondarsi di persone positive e fare un sacco di esperienze nuove.